...alle bambine del Don Setti... ...alle bambine dell'Appatato... ...ai giovanotti del Capodio... ...ai giovanotti dell'Appatato... ...ai giovanotti del Capodio... ...ma me ne faccio la camminata... ...foi il Capodio... ...ok... ...io vorrei chiamare Dio... ...tutte le insegnate... ...la Mestra Maria... ...la Mestra Isabella... ...eh... ...no, sapete che ci è passato... ...vano stare immobili... ...allora... ...la Mestra Maria Teresa... ...la Mestra Maria... ...la Mestra Isabella... ...la Mestra Rita... ...la Mestra Meri... ...la Mestra Dina... ...la Mestra Maria... ...la Mestra Rita... ...la Mestra Claudia... ...la Mestra Rosalba... ...la Mestra Anna... ...la Mestra Irvi... ...e altre Mestra Armi... ...venite... ...acogliatevi con un applauso... ...vi sottrucci dei bambini... ...eccoli qua... ...eccoli qua... ...eccoli qua... ...come dici che i saloni... ...siano una scuola fortissimi... ...eccoli qua... ...eccoli qua... ...ti mandano... ...eccoli qua... ...le nostre... ...le nostre maestre... ...ecco qui... ...quasi quasi facciamo collegio recente... ...fermi Pimbi... ...Pimbi... ...fermi... ...allora... ...io... ...soni qui... ...metto il bacio... ...metto il bacio... ...io vorrei... ...ehm... ...vorrei ringraziare... ...tutte le maestre... ...per l'aiuto... ...e l'insegnamento... ...che veramente mi danno... ...ogni volte che vado lì... ...da loro a fare lezioni... ...io insegno alla media... ...ma... ...come mi diverto all'infanzia... ...e agli elementari... ...è qualcosa di assoluto... ...perché lavorare con i bambini... ...è spettacolare... ...è fantastico veramente... ...mestre... ...perché sono i bambini... ...almeno non parlo di me... ...sono i bambini... ...che insegnano me... ...io vorrei ringraziare... ...di mio cuore... ...permettetelo... ...ehm... ...dove è mia figlia... ...forse la vita... ...le ha fatto i balleri... ...forse la vita... ...le ha fatto i balleri... ...la mia figlia... ...la mia figlia... ...la mia figlia... ...è chi è che mi sa la prima... ...ehm... ...ehm... ...io sono la più anziana... ...dipo... ...eh... ...niente... ...e un piacere... ...e una volta... ...le riesce a scupirci... ...perché... ...la ora... ...con tutti... ...di pressi... ...e mette insieme... ...le cose tavolose... ...io... ...sono una... ...sbalonchista... ...ehm... ...ehm... ...ve ne auguro... ...ehm... ...ettete di lante... ...sia... ...grate, grate... ...o neanche lì... di voi ho fatto da prendere e da imparare, se è una figlia viene, si, 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 allora io per mettermi vorrei omaggiare le due quasi personate, la maestra Rita, che le pensiamo e dov'è la mia figlia, dov'è la mia figlia, io sono andato in pensione prima le a te, allora questo taglierò a lei, con l'augurio maestro di una, godi la pensione, fai la nonna, grazie, perché la maestra Rita, perché voi non le chiedete, le metchete per la scuola, grazie, prego, una parola da maestra Rita, che devo dire, devo andare in pensione, ma ci non lo so, non lo so, veramente devo ringraziare la messa Angela per questo progetto che ha portato nella scuola dell'infanzia, perché veramente è un progetto bellissimo, che per la scuola dell'infanzia è importante sia la musica che la notoria, sono attività che si devono rivolgere, poi per quanto riguarda la nostra pensione, eh, ce l'abbiamo, ok, grazie, grazie mille, grazie mille, grazie mille, da tutti, e un'altra parola che ho dato e ai nostri bambini che sono stati segreti a domani.